Te lo dico subito, è il capolavoro di Torquato Tasso, l'opera della sua vita. La Gerusalemme liberata è un poema epico suddiviso in 20 canti e 5 parti che rimandano ai 5 atti della tragedia classica. Pensa che Tasso comincia a lavorare intorno all'idea centrale del poema ancora adolescente. Poi ci si dedica a tempo pieno, dal 1565 al 1575, quando lo termina, cioè dai suoi 21 anni fino ai 31, visto che Tasso era nato a Sorrento nel 1544. Il poema prende forma alla corte estense di Ferrara, la stessa corte in cui Ariosto aveva scritto l'Orlando Furioso. Come l'Orlando Furioso, la Gerusalemme di Tasso è un poema in ottave e di argomento cavalleresco. Anche qui ci sono i cavalieri, le armi e gli amori, ma tutto è più solenne e ha grandissima importanza l'aspetto religioso. Infatti, la Gerusalemme liberata risente molto del periodo in cui è stato composto, l'età della controriforma. Sono gli anni che seguono il Concilio di Trento, gli anni in cui la Chiesa Cattolica serra i ranghi e si riorganizza con forza dopo la riforma protestante. La trama del poema ruota intorno alle imprese dello storico condottiero Goffredo di Buglione durante la prima crociata per liberare Gerusalemme dai musulmani. Il poema inizia facendo subito riferimento al tema e al suo protagonista. Canto l'arme pietose e il capitano che il gran sepolcro liberò di Cristo. È un attacco famoso, ricordatelo e ripetilo. Canto l'arme pietose e il capitano che il gran sepolcro liberò di Cristo. Ora, non dimenticare che le storie guerresche dell'assedio di Gerusalemme e degli scontri valorosi tra cristiani e musulmani sono intrecciate nel poema alle storie d'amore, a volte anche di amore sensuale. Tra queste c'è quella dell'attrazione del cavaliere cristiano Rinaldo per la maga armida e poi, soprattutto, c'è la tragica storia di Tancredi, anche lui, cavaliere cristiano, e di Clorinda, una nobile guerriera della parte avversa. I due si amano, ma durante un duello Tancredi uccide Clorinda. Non è che la uccide apposta, è che non la riconosce, perché lei indossa la corazza da combattimento. Il tutto avviene in una delle scene più intense del poema, che è anche un poema pieno di avvenimenti, apparizioni trovate, i diavoli che aiutano i musulmani, l'arcangelo Gabriele che appare a Goffredo, magie, sortilegi, incendi, scontri spettacolari. Ma sempre ricordatelo con la costante attenzione dell'autore per il giusto equilibrio tra il delectare e il doce, ovvero tra il divertire e l'insegnare. Tra l'invenzione libera e pura e la necessità di essere edificante e di veicolare valori e principi religiosi. Hai capito? E se non hai capito, ripassa da qui, ripassa da noi.